Al via la campagna vaccinale anti-covid-19 sugli ultraottantenni di Silvi. Il punto vaccino è stato allestito presso il Centro Commerciale Universo a Silvi Marina, in uno spazio appositamente attrezzato al primo piano della struttura. Finalmente oggi è partita la campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze e le nostre risorse in collaborazione con l'ASL e oggi piano piano si stanno vaccinando i primi ultraottantenni e poi a seguire tutti gli altri. Oggi e domani saranno le prime due giornate qui e poi seguiranno anche i domiciliati a casa perché molti anziani non deambulano e dunque saranno sicuramente poi seguiti nelle proprie abitazioni. Ovviamente invitiamo però per chi può venire di partecipare direttamente qui perché ci siamo organizzati, la struttura è perfettamente funzionante ed è ovvio che questa struttura rimarrà aperta per i prossimi mesi per sobbarcarsi l'onere di vaccinare l'intera popolazione. Dobbiamo dire che all'inizio i numeri erano abbastanza bassi, oggi siamo arrivati a oltre 650 richieste e vedo che ci sono ancora cittadini che vogliono comunque segnarsi nelle liste, e perciò siamo fiduciosi che buona parte della percentuale della nostra popolazione si vaccinerà. Quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento così grande e così importante? Indubbiamente c'è tanto lavoro anche perché buona parte è a carico dei comuni, sia tutta la situazione logistica ma anche con gli amministrativi, dunque veramente un supporto importante a cui noi sindaci ma tutti gli amministratori e gli impiegati dello stesso comune devono comunque dare il loro contributo.